Servizio attivo in due diverse fasce orarie. Oggi domenica 25 dicembre. Bus trambe metropolitane sono in funzione questa mattina dalle 8.30 alle 13 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16.30 alle 21. Questa notte viaggeranno regolarmente le linee bus notturne. Ricordiamo inoltre i provvedimenti previsti nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie. Oggi 25 dicembre le zone a traffico limitato di urne di centro storico e tridente non saranno in funzione quindi libero accesso. Per chi deve raggiungere il centro lo ricordiamo sono in strada le due linee circolari gratuite Free 1 e Free 2 che partendo dai parcheggi convenzionati di piazzare dei partigiani della stazione Termini consentono di raggiungere velocemente largo Chigi quindi via del corso. È in strada gratuita anche la linea 100 che si muove all'interno del centro storico e il collega porta a Pinciana con Piazza Cavour.